Buonasera, eccoci qui per una nuova merenda. E come ogni sera, Sticci fa dei disastri, mentre lui quando io vado in diretta deve venire a... Non lo so, perché fai così, amore mio? Fai niente. Vabbè. Allora, aspetto che arriviate. Oggi ho fatto una cosa che potrebbe sembrare una cheesecake, ma noi siamo onesti, non lo è. E quindi non lo diciamo. Guardate che carina. Il profumo di nocciole è fantastico. Ben arrivate, mano a mano che arrivate. Non commento. Allora, in questa bella domenica rilassata, siete tranquilli? Che mangiate voi di merenda? Scrivetemelo nei commenti. Allora, ecco qua. Intanto, vi invito a condividere il video, se vi piacerà quello che mangiamo, e per aiutare le persone a fare delle merende. Avete presente quei video in cui i gatti buttano giù le cose dal tavolo? Ecco, lo stiamo vivendo. Ma non fa niente. Ciao Maria, ciao Simonetta. Maria, come stai? Che non eri tanto in forma. Ignoriamolo. Buonasera. Allora, bene, i giochini della bambina sono finiti. Non ce n'è più da tirare per terra, perciò è un passo avanti. Allora, io comincio a mangiare, perché non è una cheesecake. In fin dei conti è tonda e c'è il formaggio, no? Sì, ma nessuna cheesecake si rispetti alla mela sotto. Che canonata! Buonissima! Allora, se vi ricordate ieri ho fatto una cosa simile con un disco di mela sotto, no? Quella mela avanzata, non è capitato che io la mangiassi durante la giornata. E quindi ancora lì, adesso la finisco, certo, perché non è che può stare lì per sempre, però, fetta di mela. Non c'è più niente sullo scaffale, se vi interessa saperlo, eh. Poi ho messo questa ricotta di bufala, che è quella che mi è avanzata da un'altra merenda. E sopra avrei potuto mettere tante cose. E ho messo una crema di nocciole tostate. A me piace quella. Potevate mettere una crema d'arachidi, crema di anacardi. Il miele ci poteva stare, o la marvellata, però, sì, c'è la ricotta che compensa, però veniva un po' più zuccherino. C'è già una fetta di frutta sotto. Io ho optato per una cosa più grassa e più proteica. Alla fine ce l'ho messo un cucchiaino di crema, eh. Solo che è molto liquida e si espande e cade anche. Ciao, Angelo! Credite, vi ispira? A guarnizione ho messo semplicemente due mandorle e una nocciola tostata. La semplicità, come al solito. Per chi fosse appena arrivato, vedo che state entrando in un po', sto finendo una torretta di mela, ricotta e crema di nocciole con della frutta secca. Che non è una cheesecake. Oddio, ci sono anche quelli che fanno il fit tiramisù, il fettamisù e queste cose qui che potrebbero chiamarla così, ma io sinceramente penso che la cheesecake si vada rispettata e non deviata con cose dietetiche. Facciamo un'altra cosa, la chiamiamo in un altro modo. E se quando vogliamo mangiare la cheesecake, mangeremo la cheesecake. E boom! Ciao, Miriam! Sentite il rumore? Se lo sentite vi dico cos'è, se no no. Veramente buona! Allora, avrei potuto, tra virgolette, zuccherare la ricotta, ciao Caterina, ma ho scelto di non farlo perché, a parte che non mi interessava il gusto dolce, la crema di nocciole non è dolce, quindi è una merenda che è neutra, che non è né dolce né salata. Se siete fan del dolce, potete mescolare la ricotta con una punta di marmellata o del miele e otterrete la versione più dolce, più che. Scusatemi un secondo. Finiscila. Bene. Nessuno mi racconta... Ah, ciao Caterina. Qualcuno mi racconta la sua merenda? Siete silenziosi oggi? Che fate oggi? Ciao Maria Teresa! Che combinate in questa bella domenica pomeriggio? Tranquille, rilassate, che fate? Niente? Due mandaranci e arachidi. Ok Maria Teresa, questa è la tua merenda, ma che fai di bello? Come avete passato questa domenica? Io sono stata sola con la bambina finora, adesso visto che domenica pomeriggio è uscita a passeggiare ben vestita con i suoi nonni, che ringrazio. Relaxa a casa sul divano, va bene Caterina? Ricordatevi che il relax può anche essere una bella passeggiata, eh? Infatti io, io penso che quando avrò finito qui prenderò una boccata d'aria anch'io perché tutto il giorno chiusa in casa con la bambina, per quanto ogni giorno faccia progressi e ci siano cose nuove da vedere, ho bisogno d'aria. Ce l'avrei avuto anche se fossi stata da sola, eh? Che ne dite della mia merenda di oggi? Oggi siete silenziose, rispondetemi. Vi è piaciuta? Vi ispira? Sono uscita per una passeggiata e ho percorso 5.000 passi, sono tanto contenta. Brava Maria Teresa, sono veramente tanto contenta anch'io. Io ho scoperto una cosa brutta e cioè che il mio contapassi, che è nell'orologio, quando esco col passeggino non mi conta i passi perché tengo le mani sul passeggino, non sente il pendolarismo e quindi non mi conta i passi quando vado col passeggino, cioè ci sono rimasta malissimo, io faccio chilometri col passeggino e non mi viene riconosciuto nulla, molto offesa con il mio contapassi. Quindi guiderò con una mano, se mi vedete guidare con una mano e spostare l'altra, sono una scema sapete perché, non sono rientronata, cioè sì lo sono per star dietro a queste cose però, se riesco a far alzare mio marito dal divano andiamo a fare due passi, eh, o vai da sola, oppure, eh, dipende, dipende cosa è più importante per te, il marito o i passi. Va bene, anche oggi ci siamo fatti una merenda diversa, se volete scrivetemi nei commenti cosa vi piacerebbe che utilizzassi per le prossime merende, per aiutarmi a avere più varietà e se vi fa piacere condividete il video, così aiutiamo più persone possibili a scoprire delle merende diverse dalla solita fruttatrice da sola, lì, ragrinzita. Io divano non ancora in forma, eh, Maria, tu riprenditi, eh, tu datti, eh, ma tutti quanti, quelli che non stanno bene, datevi del tempo, perché è importante muoversi, ma se non fate recuperare il vostro corpo, poi finisce peggio, 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 peggio. Va bene, io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo domani. Buona serata a tutti!